Ciao a tutti, io mi chiamo Salvatore, anche se alcuni di voi probabilmente mi conoscono come Surry, lo youtuber, e se non mi conoscete così spero che lo possiate fare oggi su questo palco dove ho tutte le luci puntate addosso e pochi minuti per raccontarvi tutte le cose più intelligenti degli ultimi anni della mia vita, quindi senza possibilità di fare tagli e di ricominciare, tranquilli, zero pressione, e in più a rendere il tutto molto più leggero in realtà abbiamo il tema di oggi, permacrisi, crisi, ora quando mi hanno chiesto di raccontare cosa fosse la crisi per me, ho avuto un problema, mi sono reso conto che non ero così tanto familiare con il termine, e forse è così un po' per tutti, diamo per scontato di conoscerlo perché la nostra generazione, le nostre generazioni sono state plasmate dalle crisi, c'è stata la crisi politica, diverse crisi politiche, crisi economica, crisi dei valori, c'è sempre anche una crisi dei valori, tipo un passepartout nella storia ogni generazione alla sua, e quindi tutto urla crisi, però ho visto il mio nome accanto a questa parola e ho detto che cos'è la crisi per me, che cos'è la crisi nella mia vita, e devo essere onesto, non sapevo da dove iniziare, proprio foglio bianco davanti a me, ho detto iniziamo dall'origine, non tanto dall'origine delle crisi nella mia vita personale, ma dall'origine nella crisi, della crisi, nella civiltà, e quindi cresciuto a pane YouTube, ho aperto l'enciclopedia Treccani, digitale ovviamente, perché non ho quella fisica, per cercare l'etimologia della parola crisi, e ho scoperto qualcosa di molto interessante, allora questa è la radice, e cosa vuol dire? Vuol dire scelta, vuol dire decisione, ed è una parola neutra, non ha quell'accezione negativa che noi invece cerchiamo di darle continuamente, siamo stati noi, diciamo, esseri umani moderni, a far sì che scegliere diventasse un peso. Allora, cosa succede? Che viviamo in una società talmente complessa, che ogni singolo momento in cui ci troviamo a prendere una decisione, sembra portare con solito un sistema di rischi, di pericoli, però effettivamente cosa c'è di difficile nello scegliere? Nel prendere quella decisione che pensiamo sia la migliore per noi o per le persone a cui vogliamo bene? E voi mi direte, non c'è nulla, e avreste ragione se non per tutto quello che ci lasciamo alle spalle quando prendiamo la decisione, no? La proiezione dell'alternativa è come sarebbe andata se. Ed è qui che entra in gioco l'insicurezza, l'insicurezza che se non è tenuta a bada diventa instabilità. Ed eccole, li ho nominati queste due creature mostruose che accompagnano le crisi e ci tormentano, a volte non ci fanno neanche dormire la notte. Insicurezza e instabilità. E' un duo molto temuto e per allontanarlo cosa facciamo? Diciamo di sì a tutte quelle scelte che forse per retaggio culturale dovrebbero darci un po' di sicurezza. Quindi trova un lavoro con una buona paga a tempo determinato, oppure trova una casa ma che sia di proprietà, trova un partner e che sia per tutta la vita. Scelte che forse prendiamo sperando che ci devono un po' di sicurezza ma che non rappresentano appieno ciò che siamo o ciò che vorremmo essere. Scelte che magari prendiamo più per paura che non per la voglia di scoprire. Non importa però quanti compromessi cerchiamo o addirittura troviamo, l'insicurezza e l'instabilità sono lì costantemente tutti i giorni come una sorta di coinquilino silenzioso che ti lascia i calzini sporchi per terra o i piatti sporchi in cucina che ti ricorda, guarda, viviamo insieme. Ed è così. Questa è casa mia, quello è il quadro sul mio divano e questa è l'insicurezza e questa è l'instabilità. E queste sono tutte le cose che fanno, spostano i vasi e così via. Ah, sì, giusto. Non solo ci spostano tutto ciò per farci ricordare che viviamo insieme, perché effettivamente viviamo insieme tutti i giorni, quando magari guardiamo la tv o scorriamo i social e veniamo costantemente ricordati che il mondo è incerto e che il nostro futuro forse lo ha anche di più. Non solo, entrano anche nelle nostre crisi personali, quelle che ci portiamo dentro e che ci portano a cercare delle risposte in un mondo che sembra averne sempre di meno. E internet in questo caso poteva essere un aiuto importante, sono un po' di parte, un po' perché internet ci ha dato un accesso illimitato a un mondo di conoscenza e anche perché ci ha dato accesso a delle possibilità inedite, come è successo a me con YouTube. Ma c'è anche un altro lato della medaglia, e cioè che internet ha aumentato le nostre crisi personali, esponerci tutti i giorni a dei paragoni completamente insensati, a dei primati, a degli stili di vita che sono accessibili a pochi e questo ci fa sentire inadeguati, ci fa sentire sbagliati, non sarò mai abbastanza, oppure sono in ritardo sulla tabella di marcia. E quindi cosa succede? Che questi pensieri tutti si accumulano insieme giorno dopo giorno e così ci cacciano via dal nostro cervello e danno le chiavi, come potete vedere in questa bellissima illustrazione, all'insicurezza che inseguitare all'impazzata, non ha la patente, non ha il casco, chissà dove ti porta. E quindi in questa situazione in cui dovremmo prendere una decisione, risolvere alcune di queste crisi, invece cosa facciamo? Iniziamo a scrollare su TikTok, cerchiamo di anestetizzare la crisi, sperando che passi da sola, ma la verità è che non passa. L'unico modo per superarla è affrontarla. Bisogna riprendere il controllo, dirottare l'insicurezza dalla guida, nonostante tutte le piccole crisi che ci possono essere, e prendere il controllo proprio. E poco fa vi dicevo che non sapevo dove iniziare, quindi vi ho raccontato l'origine della parola crisi, e ora vi devo raccontare quella che è l'origine della crisi nella mia vita. E sono stato molto fortunato, devo ammettere, perché ho inquadrato solamente due momenti come delle vere crisi, nel senso negativo del tema di cui parlavamo prima. Allora, la prima accade quando ho 18 anni. Sono un ragazzino che sta finendo il liceo scientifico, sono all'ultimo anno, ma da qualche anno sto portando avanti anche questo canale YouTube, che ha iniziato a darmi anche delle soddisfazioni, anche a livello economico. Io racconto un po' la mia vita, gioco ai videogiochi, e va tutto alla grande. Conosco anche altri ragazzi che fanno la stessa cosa, e iniziamo a farlo insieme come un gruppo di amici. E va tutto alla grande, anche diciamo nella difficoltà di conciliare quello che è lo studio e un lavoro che era completamente nuovo, senza orari, senza regole. All'improvviso arriva un'opportunità. Un'opportunità per me, ragazzino 18enne, di andare all'E3 di Los Angeles. Che cos'è? Che cos'era? Era una delle fiere di videogiochi più importanti al mondo. E sto parlando di una decina di anni fa, 2013-2014. Per l'epoca, su YouTube, andare a questa fiera, ma non solo andare a questa fiera, andare a questa fiera invitati da una grande azienda di videogiochi, voleva dire essere uno di quelli che conta. Era letteralmente un sogno per il mio 18enne, 18enne che è cresciuto in Veneto e giocava a Minecraft praticamente tutto il giorno. Tutto bello se non che tra me e questo sogno si è messo Mastodonti con il Ministero dell'Istruzione, con in mano le tracce della prima prova di maturità, che mi dice guarda che le date coincidono. E ho detto, ah, urca, non c'è possibilità di anticipare e di posticipare. Se vado alle 3, automaticamente vengo bocciato. Ed ecco qui la mia prima grande crisi, questo grande bivio, anzi più di un bivio. Cosa faccio? Finisco il percorso scolastico? Oppure mi imbarco in questa nuova avventura, YouTube come lavoro, senza orari, senza regole, nessuno bene lo conosce? Prendo il diploma o prendo un volo per andare dall'altra parte del mondo? Faccio quello che sicuramente avrebbe reso felice mia mamma, oppure quello che forse, forse avrebbe reso felice me? E ci ho messo giorni, settimane di pensieri, di dubbi, ma alla fine ho scelto. E nei giorni dopo la mia decisione, l'insicurezza era davvero grande, grande quasi quanto la delusione che avevo dato a mia mamma. Però quella scelta lì ha risvegliato un qualcosa in me, perché scegliere vuol dire essere vivi, e io lì in quel momento, più che vivo, mi sono sentito proprietario della mia vita. Cioè per la prima volta a 18 anni mi sono sentito davvero proprietario della mia vita. E quindi cosa ho fatto? Mi sono rimboccato le maniche e ho iniziato a lavorare, a lavorare davvero tanto, sia perché volevo dimostrare di aver fatto una cavolata, e anche perché mi rendo conto che stamattuano dentro di me una consapevolezza che deriva da questa scelta, ma una consapevolezza che mi sarà molto più utile con la mia seconda, forse più grande, crisi. Passano degli anni, sei o sette, siamo nel 2021, più o meno, e ormai sono un youtuber affermato, milioni di iscritti, faccio sempre parte dei mates, ma ora non siamo semplicemente un gruppo di amici, siamo proprio una squadra affiatata, una seconda famiglia, e quello che facciamo è viaggiamo, lavoriamo, creiamo i contenuti, tutto in lupo, con uno di questi addirittura ci condivido la casa. Tutto fantastico per anni, fino al 2021. Fino al 2021 in cui succede qualcosa, una sorta di fulmine a ciel sereno, o addirittura la foto del momento in cui accade, ecco, un po' drammatico lo so, però è così. Eravamo in live, in diretta, su Twitch, con i mates, stiamo inaugurando il nostro nuovo studio, e io sono lì, che dovrei essere contentissimo di questo nuovo progetto, che fisso il vuoto, e davanti a me ho una sorta di visione, una parete grigia con sopra una scritta al neon enorme che ho scritto, tu non vuoi più fare questo, basta, non è più così che vuoi passare le tue giornate. E dice anche lì, urca, cioè, non è una cosa proprio leggerissima. Anche perché, allora, intanto era una consapevolezza più profonda del semplice A, un capriccio. Volevo proprio esplorare delle strade nuove della vita che ancora non avevo esplorato, e avevo bisogno di voltare pagine. Era qualcosa che stavo, diciamo, metabolizzando dentro di me, ma in quel momento è diventato reale. E soprattutto, questa è una crisi molto più importante rispetto alla prima, perché nella prima ho arricchato delusione a mia mamma. Qui avrei influenzato, con la mia scelta, la vita di altre tre persone, non solo la vita professionale, ma anche la vita personale. Però è una scelta che mi sento dentro e che sto iniziando a maturare, passano alcuni giorni, e decido di dirlo ai miei compagni d'avventura, ai mates, fisso una cena, mentre sto camminando verso il ristorante, penso tra me e me, ora entro, gli dico tutto, per quanto sarà dura, entro e gli dico tutto. Entro, ovviamente non dico niente. Cioè, proprio zero totale, la cena va come se nulla fosse, perché i mates per me rappresentano davvero troppo, sono davvero la mia seconda famiglia, e non voglio avere io la responsabilità di porre fine a questa avventura, cioè proprio una cosa che mi terrorizza, mi blocca. E quindi passano altri giorni, altre settimane, nonostante io internamente abbia preso questa decisione, ma ancora non sia riuscito ad esprimerla. E i mates però mi conoscono da davvero tantissimo tempo, e quando conosci qualcuno, ti rendi conto che qualcosa non va. Quindi mi bloccano, mi fermano, e mi dicono, cosa c'è? Cos'è che non va? Quindi ci confrontiamo, parliamo, e viene fuori che effettivamente forse è arrivato il momento di porre fine, a questa avventura. Però come dicevo, i mates rappresentano davvero una fetta molto importante della mia vita. E ora cosa faccio? Come lo riempio questo buco? Ho detto che voglio diventare qualcos'altro, ma non so che cosa, quindi cosa divento, come lo divento, in quanto tempo, tutte domande che ti affossano, e dovrebbero dare origine, quasi a una crisi nella crisi, una crisi ancora più grande, giusto? In teoria sì, ma in pratica non è quello che è successo con me. Mi sono reso conto di essere cresciuto, di essere maturato, di non essere più ragazzino di 18 anni, che si fa sovrastare dai sé e dai ma. E soprattutto ho fatto esperienza, dal giorno in cui ho lasciato la scuola, ho preso decisioni importanti, con un impatto reale sulla mia vita, tutti i giorni, per anni. E ho fatto anche una stima, ora non si potrebbero usare le slide con i numeri che si muovono, quindi vi beccate questo, e per fare un video su YouTube, pensate, ci vogliono circa 10 micro decisioni, titolo, copertina, il contenuto, con le sue varie sfaccettature, a che ora pubblicarlo, e in alcuni periodi caricavo 3 video al giorno. Negli ultimi anni, sui miei canali, ci sono 6.000 video. 6.000 video vuol dire, 60.000 micro decisioni, a cui se aggiungiamo tutti gli aspetti, diciamo, lavorativi, quindi carriera, i brand, le collaborazioni, i viaggi, e anche tutte le scelte private, raggiungiamo tranquillamente un numero a 6 cifre. È stato praticamente un workout continuo, di bivi, di decisioni, un allenamento nel mio senso del giudizio, nel mio istinto. E un istinto che viene coltivato per anni, diventa convinzione. E questa forse oggi è la mia risorsa più preziosa. La convinzione che in qualche modo, le scelte che prendo, le cose che mi succedono, sono le migliori per me. Questa filosofia ha un nome, non è mia, non l'ho inventata io, l'ho ritrovata, e mi sono ritrovato, e spoiler cringe, me la sono anche tatuata addosso. Si chiama Amorfati. Amorfati vuol dire, accettare il proprio destino, vuol dire, accettazione del proprio destino, di tutti gli eventi, sia positivi che negativi, come parte integrante della propria vita. Accettazione totale, ma soprattutto positiva, di tutto anche dei momenti di crisi. E forse se vivo la mia vita convinto di questa cosa, anche con un po' di arroganza, le scelte che prendo, le cose che mi succedono, in qualche modo sono le migliori. Forse avrò la mentalità migliore per affrontare tutto quello che la vita mi lancia addosso. E forse questo è il lascito, diciamo, un po' più importante di questa mia avventura, anche se in breve ve l'ho raccontata oggi. Cioè la fiducia nel mio istinto, perché è l'istinto che ti guida quando la razionalità ti blocca ed è l'istinto che ti permette di abbattere questa paura dell'incertezza, dell'insicurezza, dell'instabilità. La vita è una serie di scelte, ma ogni scelta ti aiuta ad evolvere. E anche Steve Jobs, per quanto l'abbia fatto in maniera molto più bella e figa di me, lo diceva nel suo discorso, quello famosissimo, e dice, non puoi unire i puntini guardandone avanti, puoi farlo solo guardando indietro. Però mentre cammini, mentre tracci questi puntini di giorno in giorno, devi credere che ti stiano portando da qualche parte, e soprattutto devi credere in qualcosa. Io ho deciso di credere nel mio istinto. Quindi permacrisi, permacrisi, un susseguirsi di crisi. Però con questa mentalità, per me la permacrisi è diventata una permopportunità, un'infinita serie di fare dei passi avanti. E magari non sono neanche passi così grandi, magari sono piccolini, però li facciamo e ci alleniamo ad affrontare le crisi. Magari arriveremo a un punto in cui lo potremo fare anche con serenità, con tranquillità, e abbattere questo duo ostruoso, no, in sicurezza, in stabilità. Che sono questi due, che sono piccolini ora. Però in realtà magari ci renderemo conto che non c'è proprio niente di cui aver paura, e che questi nostri coinquilini potremmo conversarci, no, serenamente, sederci insieme sul divano e forse vederli addirittura come degli alleati, come un campanello d'allarme, perché quando si palesano è arrivato il momento di ragionare e agire, prendere una decisione, una spinta in più per fare un passo verso la nostra personalissima idea di felicità. Grazie.